Grande folla di bambini e ragazzi oggi ad Arco per la prima giornata del Carnevale, giunto alla sua 140esima edizione. Sul Viale delle Palme il labirinto dei giochi gonfiabili, il trenino e la giostra. Colonna sonora dell'evento, la musica dal vivo con i cartoon jazz, mentre alle 16 sono stati distribuiti gratuitamente prodotti Trentini e la merenda di Carnevale. Soddisfazione da parte del gruppo Costruttori Associati, che ha il sostegno per la manifestazione del comune di Arco. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!